benvenuto benvenuta al mini festival di poesie di ritorno di fiamma benvenuta ad amanda sandrelli grazie che è qui per leggere una poesia di cristina da pizzano amanda e lascio sola con la poesia di cristina e ritorno se avesse l'uomo dono del pensiero daria alla donna onor e amor sincero poiché fu essa a porlo sulla terra in vita e in pace che di poi la guerra fu l'uomo all'uomo che l'ha detta in sorte sconce invenzione dar vita alla morte decisamente bella grazie 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 a te alla prossima poesia